chi di noi non ha mai usato uno di questi attrezzi tradizionali cacciaviti e chi di noi non ha mai avuto a che fare con uno smartphone pochi sicuramente hanno avuto a che fare con questo prodotto che cosa che fare con i due che appena mostrato semplice è un cacciavite ma tecnologia che troviamo negli smartphone un giroscopio questo prodotto black and decker permette di avvitare e svitare con intensità differente in funzione del livello di rotazione applicato dalla propria mano per ottenere questo funzionamento viene chiamato in causa proprio il giroscopio sensibile alle rotazioni del prodotto oltre che all'intensità con la quale la mano coordina la rotazione quello che sembra un semplice gadget si è rivelato essere un attrezzo efficace molto pratico grazie alle differenti teste può essere utilizzato per varie tipologie di prodotti nel caso dei componenti informatici pc desktop in testa è fornita una dotazione di tutto quello che un bravo installatore necessita l'apparenza per molti versi quella di un giocattolo la sostanza invece c'è tutta unita a un po di innovazione tecnologica che tanto piace agli appassionati non crediamo comunque che in futuro arriveremo al punto di vedere un cacciavite elettrico con smartphone integrato sarebbe a questo punto preferibile uno smartphone come questo con una macchinetta del caffè integrata ma forse questo è un sogno troppo da nerd per essere vero grazie 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 grazie